Hotel Santa Caterina, a 200 metri della spiaggia di Marina di Capo, propone una vacanza rilassante a pochi passi dal centro. Amplio parcheggio, ricca colazione e trattamento di mezza pensione o pensione completa. La Duchessa a Castiglion della Pescaia, bed and breakfast di lusso in un esclusivo e riservato resort. Il bed and breakfast è stato amorevolmente restaurato da un casale fortificato risalente al 1100. Per una vacanza o un fine settimana, il caratteristico hotel Aurora direttamente sul mare di Cecina, posto auto, wifi e il ristorante Viale Vittoria 20, con specialità marinare aperto tutto l'anno. Bar dell'Orso, tipico locale toscano, taglieri, zuppa, piccelaglione, tagliatella al cinghiale o un bel panino farcito, tevole selezione di vini.